Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopà17 e oggi siamo tornati su Kirby e la Terra Perduta. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio, insieme, abbiamo completato al 100% il mondo numero 2, Oasi Voce d'Oceano. Ho completato i vari livelli più tutte le vie del tesoro, abbiamo sconfitto il terrore tropicale e oggi dobbiamo iniziare ad esplorare il mondo numero 3, Macerie Meravillà. O Meravillà, ma penso che la pronuncia italiana sia più corretta, direi di partire da Benvenuti a Meravillà. Completa il livello, salva i Waddle di nascosti. Per il momento ho salvato tutti quelli del mondo numero 1 e del mondo numero 2. Oggi ci dirigiamo presso un parco di divertimenti abbandonato, qualcosa del genere. Ci sono un po' di nemici eh, guardali che viaggiano in coppia. Perfetto, c'è una paperella che mi... perché sta paperella mi segue, scusate? Ah, eccone un'altra. Mi sa che dobbiamo riportarle alla mamma papera eh. Scusate eh. Eccolo qua. Secondo me questo è un obiettivo nascosto. Ecco il quarto pulcino. E non mi pare ce ne siano altri. Glielo ho portati tutti forse? Hmm, mi sa di sì. Mamma papera. Dai eh! Ah, me ne manca uno. Caspita si nasconde l'ultimo. Me ne manca uno. Lo becchiamo subito eh. Lo becchiamo subito. Dovrebbe essere qui in zona comunque. No, vabbè, che bello! Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo questo. E dove caspita si è infilato? L'anatroccolo, anatroccolo! Dove sei? Non penso che sia qui sopra, giusto? Ammira la vista della punta del razzo. Perfetto, ho completato un altro obiettivo senza rendermene conto. Vabbè, appena scopro dove si trova, ve lo mostro come ho già fatto in precedenza. Qui non si può rompere nulla. Lì dentro non si nasconde niente e sarà qua in giro da qualche parte. Però secondo me è lì vicino a Mamma Anatra. Ehi! Coniglio gigante. Qui? Niente. Un fiore. Attenzione a non farsi colpire da queste astronavi, eh. Spolazziamo. Carotina. Occhio al fango. Ci siamo sporcati un po' tutti, Kirby. No, più che altro il fango ci rallenta. Quindi. Facciamo attenzione. Comunque questo livello è veramente qualcosa di magnifico. E lui? No. Ok, colpito. C'è un po' di casino qua. C'è un coniglio. Volevi prendermi, eh, caro coniglio? E quella scimmia? Questo coniglio era un po' più resistente. No, 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 no. Vediamo cosa succede. Oh! Oh, attenzione. Ho beccato... Un Waddle di nascosto, ma... Spicciamoci. Mamma mia, che pelo... Preso! Questo era il primo... Dei quattro Waddle di nascosti. E qui c'è qualcosa. Monete più... Un oggetto. Recuperiamo anche quello. Carassim... No, 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 no. Carassimia, vieni qua. Non c'è nient'altro in zona, no? Quindi dobbiamo per forza salire. Occhio alle astronavi. Corri, Kirby! Come se non ci fosse un domani. E abbiamo sbloccato un passaggio. E torno dopo da lei, eh, non si preoccupi. E tutta sta coda? No, vabbè, ho già capito. Ho già capito, vi giuro. Ho già capito dove siamo e cosa dobbiamo fare. Oh, mamma. Mi prendo. Forse conviene non mangiare nulla prima di salire sulle montagne russe. No, vabbè, che spettacolo! Oddio, che bello! Allora, non so se come obiettivo abbiamo quello di recuperare tutte le monete, ma si parte! Yeee! Occhio ad inclinare nella direzione giù. No! Infatti. Ok, ho preso tutto. No! Ho mancato l'oggetto! Accidenti! Wow! Eh, sì, troppa roba. Aiuto! Secondo me è uno degli obiettivi è non colpire uno di questi. Eccala! Anche perché rallentiamo tantissimo. Ho mancato quello. Non so se possiamo fare un altro giro, ma non penso. Ah, no, si è distrutto. Vabbè, riproviamo. Voglio riprovare, perché secondo me se facciamo tutto giusto possiamo sbloccare qualcosa. Tanto scusate, permesso. Qui ci sono anche queste due cose da prendere. Bisogna studiarsi bene, bene, bene il percorso, eh. Comunque è troppo fico sto gioco. Lo sto portando parecchio sul canale perché mi sta veramente piacendo tantissimo, vi giuro. Raramente un gioco mi prende così tanto, eh. Incliniamo un attimo. Ok, oggetto preso. Ma poi con sta musica, ma stiamo scherzando? Oddio, ce l'avevo quasi fatta. Eccala, te pareva. Eccala di nuovo. Sì? Che succede? Ah, eccolo lì. Waddle di nascosto. Perfetto. Ok, stavolta non proseguo. Voglio vedere tra gli obiettivi secondari nascosti se c'è anche quello di non colpire nessuno di quei nemici presenti sul tracciato della montagna russa. Sparisci. No, c'è un nemico. C'è la simia. Banana. Occio. Occio, Kirby. Occio. Occio. Attenzione. Attenzione, s'il vous plaît. Aia. Eccolo lì che diventa cattivo. C'è un altro coniglio gigante. Stavo guardando se c'era qualcos'altro da fare, ma no. Non mi pare. Aspettiamo un attimo e adesso andiamo. Lancia-ossa. Siamo già arrivati in cima? Ciao ragazzi. C'è qualcosa qui. Ah, popcorn! Popcorn! Popcorn, miei! Non vedo nient'altro, eh. Buono. Procediamo a tutta velocità. Cosa ci faceva la scimmia nel fango? Non si sa. Vabbè. Allora. Qui però c'è qualcosa, scusate. Eh, mi sa che dobbiamo alzare questa piattaforma. Quindi andiamo a destra. Boccomorfosi? Ah, dobbiamo spazzare via tutto il fango. Ok. Guardate che bel palloncino che sono. Mi sa che devo fare un altro giro, perché non ho abbastanza acqua. O forse sì. Sì, sì, ne ho abbastanza. Perfetto. Magari non sprechiamola. Ok. Ottimo. Piattaforma sbloccata e posso procedere? Molto faticosamente, ma ce la posso fare. Ehi, che è sta cosa? Allora. Dobbiamo far rinascere i fiori appassiti. Dai, dammi un po' di monetine. E gli altri? Perché ce ne sono otto in totale. Gli altri saranno più avanti e quindi ci sarà per forza qualcosa per rifornirsi d'acqua. Perché se no non ha senso come cosa. Oddio. Eccolo qua. Giusto così. Aia. Ah, guardate. Posso distruggere le astronavi così. E mi prendo anche tutte queste belle monetine. Ragazzi, scusatemi, eh. Lasciatemi passare. Grazie. Dai che stiamo procedendo bene. Sì, se avete visto i vari video che vi sto caricando sul canale sono divisi in capitoli, ragazzi, eh. Quindi se per caso vi serve aiuto per magari recuperare... o sbloccare un determinato obiettivo, potete cliccare sul capitolo giusto e automaticamente vi mostrerò soltanto quello che vi interessa. Io in ogni caso vi ringrazio per tutti i like, i commenti e le condivisioni. Abbiamo ottenuto il progetto abilità martello giocattolo. Perfetto. Quindi... Possiamo buttare via tutta quest'acqua. Abbiamo fatto rinascere tutte e otto le piante. Aia! I fiori. Non lo posso mangiare sto coniglio gigante? Non se puede? Qui c'è un po' di fango da togliere, eh. Devo svolazzare... Secondo me qui sotto c'è... Ah no, si può togliere tutto sto fango, ok. Comunque secondo me lì sopra c'è un boss. O comunque c'è qualcosa di interessante perché... Non lo so, mi puzza. Ah, è una fontana sta roba. Blocchiamo tutto. Vediamo. Esploderà. Eccolo! Un altro Waddle di nascosto. Venga, venga. Questo è il quarto, quindi ne ho lasciato indietro uno. Devo capire dove si trova. Ma non vi preoccupate che adesso vi mostro la sua posizione, eh. Eccoci! Siamo pieni d'acqua. Fantastico. Va bene. Direi che è andata molto bene. È andata molto bene. Ci manca un anatroccolo e un Waddle di nascosto. Quindi adesso vi faccio vedere immediatamente dove si trovano. Intanto godiamoci queste figurine. Morfo armadietto fisso. Mi sono tirato addosso una parete. Mamma mia. Oh, Gorimondo! Bellissimo! Bellissimo! Guardate un po'. Guardate un po' dove è l'ultimo. È proprio qui dietro. Non ci avevo fatto caso perché in parte viene nascosto dalla statua. Proprio si intravede per un pelo. Quindi il quinto anatroccolo era lì. Waddle di recuperato. Per quanto riguarda il terzo Waddle di nascosto, che come dire, ho schippato un pochettino. Ma adesso lo salviamo. Dobbiamo attivare questo. Ed eccolo lì. Dovrebbe arrivare. Eccolo qua. Perfetto. Salvato. Mentre sotto al pulsante, da questa parte, c'è da recuperare un oggetto. Vedete? Così prendiamo pure questo. Perfetto. Ottimo lavoro. Et voilà! Come potete vedere li abbiamo salvati tutti quanti. Fantastico. Adesso, prima di procedere con il livello circuito rapido, direi di provare a superare il livello tesoro spino. Rotola senza sosta. La strada di spino. Obiettivo 30 secondi. È un livello via del tesoro abbastanza corto. Speriamo anche abbastanza facile, ma dalla stellina mi pare proprio di sì. Sbrighiamoci. Occhio a non perdere troppi secondi. Mamma mia. Lanciamo subito via la roba che abbiamo attaccata alle spine, perché sennò non riusciamo a procedere. Ah, sono troppo lento, troppo lento, troppo lento. Vediamo un po', ma mi sa che non ci ho messo 30 secondi. Infatti, 36. Se venivo colpito qualche volta in meno, magari ce la facevo al primo colpo. Adesso ci riprovo, eh. Ragazzi, sono un po' pieno di nemici. Voi cosa ne dite? Dai! Questa è la volta buona, ne sono sicuro. Sì! 28 secondi! Mamma mia, mamma mia. Allora, può sembrare un livello facile, però fidatevi che ho dovuto provarlo e riprovarlo varie volte per riuscire ad arrivare sotto i 30 secondi. Allora, tesoro spino completato, passiamo al circuito rapido. Salva i Waddle di nascosti. E forse questa volta possiamo utilizzare di nuovo l'auto, eh. Adesso vediamo un attimo. C'è un po' di coda. Scusate, permesso. Io ho una prenotazione, grazie. Boccomorfosi! Allora, distruggiamo tutto quello che c'è. Mi sa che dobbiamo cercare di battere il record. 25 secondi, eh. Vai! Un livello un po' diverso dal solito. Occhio a non impantanarsi nel fango. Vai, vai, Kirby, spicciati. Non so se centrare tutti questi nemici è stata un'ottima idea. 22 secondi, ce l'ho fatta. Eccolo lì. Guardate, c'è già un... Waddle di nascosto che mi sta aspettando. Qui in giro non c'è nulla. Potremmo anche rifare la gara, ma va bene così. Ho fatto un ottimo tempo. Olè! Primo Waddle di recuperato. Dai! Allora. E voi? No, no. Fermo, fermo. Il mio istrice. Questo non si può distruggere. Passiamo alla seconda zona. Allora, perché mi danno le bombe? Boh. A questo punto mi prendo le bombe e va bene così. Lui l'ho fatto fuori. I tavoli qua non esplodono. Facciamo fuori tutti i nemici che troviamo. C'è anche lui. Bell' istrice qua in fondo, ma non gli facciamo nulla, eh. Adesso lo possiamo colpire. Ah, ecco perché mi davano le bombe. Per distruggere queste pareti. Non lo sapevo. Meglio così. Meglio così. C'è qualcosa da premere qua. Ah, guardate. Passaggio segreto. Forse è meglio sbrigarsi, eh. Perfetto. Eliminato quel nemico. E adesso me ne vado da questa parte. Allora, Waddle di... Dobbiamo cercare di centrare quel pulsante. Oh, che lancio! Si vede che sono bravo a giocare a bowling, eh. Fantastico. Possiamo tornare indietro? Sì, perché abbiamo... Sì, abbiamo già fatto tutto. Ok. Possiamo tranquillamente tornare indietro. No, mi scusi. Famo un po' di casino. C'è un castello di sabbia che ci sta aspettando. No! Guardi che la mangio, eh. Se non fa il bravo. Qui non c'è niente, solo monetine. Prendiamo tutto e la bomba la lascio lì, mi tengo il cacciatore. Il fucile, il cacciatore, chiamatelo come volete. Però qui c'è il fuoco di nuovo e il ghiaccio. Chissà come mai. Ah, ecco perché. No, vabbè, mi tengo lui. Eh, col fuoco gli avrei fatto molti più danni. Perché gli faccio male, ma non abbastanza. Secondo me uno degli obiettivi secondari sarà uccidere il cavaliere o con il ghiaccio o con il fuoco. Adesso vediamo. No, non ci provare. Occhio che adesso mi insegue. Sì, con la spada nel primo livello era tutta un'altra cosa, eh. Aiuto. Aiuto. Vai giù. Dai! Ok, sconfitto. Aveva un solo punto salute e ha piazzato lo scudo per proteggersi. Allora. Mi prendo lo spadone. E possiamo procedere. E possiamo procedere. Aia. Direi di sì. Piccolo premio per noi. Pergamena. Mega spada. Ottimo. Mi curo. Oggetto da questa parte. Che belli sti conigli. Li affettiamo senza pietà. C'è qualcosa in mezzo all'erba? No. Ah, sì. Guardate. Ho fatto bene ad affettarla. Perché c'è un passaggio in questo punto. E qui c'è un Waddle Dee. Ne sono sicuro. Perché quando i forzieri si muovono di solito c'è sempre un Waddle Dee all'interno. Non c'è nient'altro. Quindi possiamo tornare da questa parte. Uh, altra gara? Così? 50 secondi stavolta. Va bene. Ci sto. Tentiamo di battere questo record. Mantenete sempre il turbo attivo. Perché sennò non ce la farete mai. Tanto sto distruggendo tutto quello che trovo sul mio cammino. Ah, lì ho perso secondi preziosi. Guarda qua che mi bloccano. Se non ce la faccio lo rifaccio, eh. Mario Kart, signori. Mario Kart. No, mi sa che stavolta non ce la faccio. Ma veramente per un pelo, eh. Perché ho visto il tempo. Ero già a 35 adesso. Figuriamoci. Il traguardo dove, caspita, è. Non lo vedo sto traguardo. Qui adesso c'è anche traffico. Bravo Kirby, hai scelto la strada giusta. Ah. E infatti. Un minuto è 0,9. Voglio riprovare, voglio riprovare. Si può? Sì, si può. No, perché posso battere quei 50 secondi. So dove ho perso tempo. E sono sicuro di potercela fare. Riproviamo. Vai, Kirby! Beh, non siamo obbligati a seguire il tracciato. Quindi possiamo tagliare tranquillamente. Così. Di lì si può tagliare, sì. Vedete, così ce la fate a... Completare tutto in 50 secondi. Tagliate così. E siamo già praticamente arrivati in fondo. Superiamo tutti questi veicoli. Quanto siamo? 45. Sì, dovete per forza tagliare. Ok, un altro Waddle Dee che dovrebbe essere l'ultimo. Rompi velocemente tutte le scatole di cartone. Ottimo. Altro obiettivo secondario. Completato. Datemi quel Waddle Dee. Fantastico. Monetina, non lasciamola indietro. E... Qui c'è qualcosa. Scusami, ti ho svegliato e ti ho affettato. E non vedo nient'altro. Quindi sì. Eccoli qua. Mi sa che non li ho presi tutti però gli obiettivi secondari, eh. Vediamo un attimo. Infatti, raggiungi il traguardo della prima gara entro 20 secondi. Ci riproviamo, eh. Dobbiamo naturalmente tagliare come abbiamo fatto nella seconda manche. Della seconda gara. Intanto ecco tutte le statuette. Se volete leggere quello che c'è scritto vi basta bloccare un attimo il video. Questo è il livello numero 3. Invasione della casa degli orrori. Wow! Allora, proviamo a completare gli obiettivi secondari di questo livello. Qui ci sono altri due livelli via del tesoro, ma prima vorrei completare questo al 100%. Ci proviamo, eh. Però 20 secondi sono veramente pochissimi. Mamma mia. Occhio. Tagliamo di qua. Tagliamo di qua. Vai. 17. Sì! 19,5. Dai! Dovete seguire il percorso che vi ho fatto vedere. Il secondo obiettivo, invece, prevede di sconfiggere praticamente quel boss di metà livello con una caramella stellina. Diciamo così, con una caramella invincibile. Quindi adesso, dopo averla mangiata, dobbiamo dirigerci immediatamente da lui alla velocità della luce. E sconfiggerlo. E sconfiggerlo. Mi sa che se lo tocchiamo una volta ce la facciamo. Vediamo un po'. Voilà. Sconfiggi mega cavaliere con un bombom invincibile. Ragazzi, abbiamo completato tutti gli obiettivi e anche questo livello al 100%. Ho recuperato degli oggetti extra, come per esempio quella figurina, e vi ho mostrato come recuperare tutti i Waddle Dee anche di questo livello. Spero naturalmente che questi video vi possano tornare utili. Direi che per il momento possiamo fermarci qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Kirby e la Terra Perduta. Alla prossima, ragazzi! Ciao!